ERIFUSI ASML Salve, buongiorno, eccoci qua Cosa abbiamo qua oggi? Abbiamo un bel gattino qua È la prima volta qua, signora Bene, ok Come si chiama il sumicio? Zeus Ma è un bel nome, Zeus Bene, allora adesso Ah, ok Come mai questo calambio di veterinario? Ho capito, è in ferie Perfetto Allora, lui deve fare il vaccino annuale, giusto? Ok Bene, adesso andremo a farci una piccola visitina E poi Ah, intanto, signora Ha il campioncino per la giardia Il campioncino di fici che mi aveva dato per la giardia Ok Perfetto Un attimo, signora Che lo vado a mettere sotto esame In dieci minuti è pronto E dopo E dopo le darò il risultato Ok Arrivo subito Eccoci qua Ok, l'abbiamo messo sotto esame E adesso E adesso andremo a visitare il nostro amichetto E vedo amore Dimmi cosa c'è tesoro Allora, innanzitutto Andremo a sentire il cuoricino Bene, Zeus Non ti devi preoccupare Perché adesso Ti farò una piccola visita E vediamo se va tutto bene Ok 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 Mettiti così Bravissimo Perfetto Ah, ma sei bravissimo Va tutto ok Sentiamo i remi Perfetto Ah, bravo Bravissimo Tesoro I battiti sono regolari Quindi signora Non si deve preoccupare Perché i battiti sono regolari Ok Perfetto Allora Adesso Andiamo a fare un piccolo controllo del pelo Per vedere se ci sono bestioline attaccate Ok Bravo tesoro Ok No, no, no Stai tranquillo amore Stai tranquillo Ok Devo solo controllare il pelo tesoro No, no, no Stai tranquillo Buono Allora Ok No Bravo tesoro No, no Allora diciamo che Il pelo è sano signora Il pelo è sano Ma lo tiene in casa lei Ah Va in terrazzo Ok Ok Perfetto Perfetto Non ha Contatti con altri amici Vero? No Ok Perfetto Oh sì Ti piacciono i miei capelli tesoro Ti piacciono Ma questo gattino è coraggiosissimo È molto bravo Allora Adesso tesoro Adesso tesoro Andiamo a controllare le orecchie Ok Vediamo se sono pulite Allora Devi stare rilassato Ok Buono Buono tesoro Amore I vaccini Facciamo il vaccino polivalente Una volta all'anno E poi Ci sarebbe anche quello per la leucemia Ah no Però Alla leucinia È quello Se è a contatto con altri gatti Allora no Ok Facciamo Facciamo solo quello polivalente Ok Perfetto Ok Perfetto Allora Ok Seus Adesso non ti devi preoccupare Adesso Andiamo a fare il vaccino Stai rilassato Ok Bravissima Perfetto Bravo bambino Allora signora Ma il suo gatto sta bene Per caso Sta bene È in forma Perché Allora Perché Esisterebbe una pasta Vitaminica Che è questa qua Che in pratica Lei gliela dà Gliela può mettere nella pappa Oppure se la mette sul dito E gliela dà un pochino Ogni giorno Che sono delle vitamine Che fanno bene Oltretutto Oltretutto Con questa pasta Lei ha Una spazzolina A omaggio Che adesso Io gliela faccio provare Che praticamente Serve A togliere il pelo In eccesso E oltretutto E oltretutto Le setole Sono super morbide E conferiscono Un rilassamento Al micio Gliela dà Allora una scatola Una confezione Costa 20 euro Signora Con spazzola Inclusa Va bene Ok Allora gliela metto In parte No Vede come si rilassa Il micio Si rilassa Moltissimo Ok Allora adesso Perfetto Allora Adesso io vado A prendere Il campioncino Della giardia Così le dico Il risultato Ok Un attimo Eccomi qua signora Allora Il risultato È negativo Quindi Siamo a posto Eccolo qua Il risultato Come puoi vedere È negativo Quindi adesso Io Eccolo qua Quindi adesso Io Glielo metto In una bustina E le do anche Un'informativa Che riguarda La giardia Ok Le do anche Un'informativa Così se la legge Ed è a posto E le do anche Il Referto Che è Negativo Come può vedere Eccolo qua signora Le do il referto Venga Ok Mi può gentilmente Dare il libretto Delle vaccinazioni Che così Andiamo a scrivere La visitina Che abbiamo fatto Il nostro amico Vieni tesoro Che lui vuole Sempre compagnia Perfetto Allora Andiamo a scrivere Non l'ho pesato Non l'ho pesato Ma tesoro Che ti peso Allora Lo mettiamo qua Sulla bilancia Ok 4 kg e mezzo Signora Ma è un peso Eccezionale Bene Adesso lo puoi mettere Nel trasportino Signora Così Andiamo ad ultimare Queste Allora Andiamo subito A scrivere La vaccinazione Fatta Ok Peso 4,5 kg Abbiamo detto E metto Il coso Del vaccinazione Perfetto Signora Allora Il prossimo richiamo Sarà Tra un anno Preferisce Che le mandi Un messaggino Sul telefono Oppure Che le mandi Una mail Ah Un messaggino Sul telefono Perfetto Tenga pure Il suo libretto Perfetto Adesso Io le faccio La ricevuta Del vaccino E della Pasta Per Con le vitamine Con la spazzola Inclusa Quindi abbiamo Allora Il vaccino 50 euro E la spazzola Con la pasta 20 Quindi Sono 70 euro Signora In tutto Vuoi la fattura Ok Perfetto Ecco qua Signora Perfetto Allora Ci vediamo Il prossimo anno Ok Grazie Grazie Buona giornata Ciao Ciao